contratto di governo pd movimento 5 stelle come dire due forze antagoniste nemiche che per il bene del paese ci sono messe d'accordo non per le poltrone no per il bene del paese certo diciamo pure così freghiamo gli italiani in questa questa maniera invece nella elezioni che sarebbe il naturale sbocco di una legislatura fallimentare invece no il partito di benetton di atlanzia di bibbiano assi mettiamoci le mani dentro i vari problemi della gente certo colpiti come andare col peggior nemico pur di tenersi queste poltrone perché tornare a lavorare da un po fastidio molto fastidio infatti il governo conte ha ottenuto la maggioranza sia il senato che alla camera con voti anche al senato abbastanza schiaccianti ovviamente fuori dal parlamento ci sono c'è gente che urla c'è gente che protesta ma come al solito i politici interessa gran poco della gente una volta che sono stati votati lo sanno benissimo li usano quei due tre mesi gli dicono gli raccontano favolette la buonanotte e poi fanno quello che vogliono dal 47 in poi è sempre stato così 45 anni democrazia cristiana insegnato nulla si crea nulla si distrugge tutto si trasforma diceva einstein e cinque stelle non sono diversi dalla cozzaglia partitica i veri politici ripeto sono i politici capaci i politici all'amoro che hanno cercato di cambiare questo paese e si è visto che fino hanno fatto uccisi per conto di per linguare lo stesso ci sono più prove che ci siano stati attentati contro la sua persona certo sono ormai 35 anni che è morto anche il buon enrico la politica la quella la vera politica è stata distrutta distrutta al terrorismo distrutta da gente che voleva fossare l'italia più che altro no al terrorismo obbligatismo come volete i punti salienti di questo accordo di governo ho contratto un accordo prettamente nel poltrone chissà quanto durerà perché quando fai un accordo per le poltrone solito dura io ti do questo tu mi dai quello uno va agli esteri anche se non sa nemmeno dove è il venezuela ma vabbè e questo è la fotografia dell'italia odierna non sa dove deve andare non sa neanche che domani ricorre il 46esimo anniversario della strage di santiago del cile del colpe cileno perpetrato dall'estrema destra con riverberi ovviamente filo statunitensi